C'è sicuramente anche questo nella conclusione dell'anno che stiamo vivendo, ma Pompei è molto molto di più. Pompei è l'idea che l'Italia non si ferma, Pompei è l'idea che facciamo notizia non più per i crolli ma per i restauri e qualcuno dirà sì ma il restauro non fa notizia, forse non avrà i titoli sui giornali che hanno i crolli ma è un tam tam strabiliante che gira per il mondo e che meraviglia le persone e chi viene qui magari facendo migliaia di chilometri per poter visitare tutta questa bellezza torna trasformato, torna diverso, è un'esperienza che lo cambia.